buongiorno ci sono domande alle quali è difficile rispondere con un messaggio e allora facciamo dei video di spiegazione alla samuel dal piemonte io ho scritto su un foglio di carta come si faceva una volta per poterla rileggere cerco un breton femmina si parla di spagnolo breton femmina di facile conduzione per il tartufo di facile associazione alla caccia perché qui ci sono solo linee da caccia ed è normale che ci sono delle linee da caccia di breton allora abbiamo detto che a tartufi qualsiasi cane non può cavare però per quando ci riguarda bisogna restare tra le razze da riporto e le razze da ferma di tipo continentale continentale non è sufficiente come spiegazione perché purtroppo alcune linee la maggior parte delle linee di caccia continentale sono inquinate con cani da ferma inglese inquinate io lo dico usando questo diciamo questo discreggiativo ma tecnicamente perché per quanto concerne il miglioramento della razza è stato inserito il setter e il pointer in praticamente quasi tutte le razze da ferma anche quelle che oggi hanno il pedigree però in passato che non c'era il dna queste cose sono state fatte ce lo raccontano lo stile di razza di alcuni cani poi inter che strappano i breton che si sdraiano io ho visto un radar che aveva un andamento breve terra e l'andamento tipico del setter era quasi morbido e radente mentre caloppava sull'alto piano di cinque viglia un trato quindi queste cose ci fanno capire stilisticamente che dentro ci sono queste razze che tendiamo a sconsigliare perché non perché siamo dei razzisti e in maniera in maniera irriverente ma per una questione di funzionalità come abbiamo detto a tartufe abbiamo bisogno delle tre intelligenze principali distribuite di pari passo e nelle razze inglesi l'intelligenza dell'istinto è molto molto spigliata chiunque ha razzi inglesi la ferma in te noi quindi setter voinder setter gordon eccetera quindi chiunque ha un setter sa che per insegnare di un seduto ci vuole veramente tanto tempo quella intelligenza dell'obbedienza che che di piccole percentuali mentre iniziato a fermare a guidare a consentire in maniera istintiva veloce e pratica quindi parliamo di razze continentali da ferma in questo caso stiamo parlando del breton che spesso in passato è stato mescolato con il setter che ha dato dei benefici a livello olfattivo e per quanto concerne la caccia e la gestione alla gestione di un carico di tipo continentale una gestione in inglese parliamo di due cose diverse poi andremo a toccare proprio in maniera diretta faremo un confronto tra queste due oggi vi voglio rispondere alla domanda di samuel cerco allora ve la rileggo cerco breton femmina di facile conduzione per il tartufo di facile associazione alla caccia perché qui ci sono solo linee da caccia è normale che tutte le selezioni di fatta eccezione per il lagotto che può accedere grazie alti al cil alle prove di lavoro sul tartufo quindi tutte le razze selezione purtroppo hanno delle degli incroci del delle delle percentuali di linee di sangue che vanno a caccia perché la selezione è una cosa seria questo è un vantaggio sotto l'aspetto di selezione del cane perché le prove di lavoro le prove morfologiche non sono solo non è una sbrafanderia se viene preso con lo stesso dopo purtroppo ci si è fatto il lucro e ha omesso un po di serietà da parte di alcuni però c'è una parte sana che lavora e un cane che è stato un prova il figlio di un cane che è stato in prova che ha fatto esposizione è potenzialmente più equilibrato di un cane tenuto al recinto e portato in montagna perché perché in selezione deve essere equilibrato si deve muovere in presenza di persone quindi abbiamo delle garanzie almeno a livello comportamentale altrimenti in quei cani i loro genitori non potevano essere presenti in questo ambiente non sono delle garanze al 100 per cento però ci avviciniamo le criticità ci sono quando sono fatte cucciolate sconsiderate ritorniamo a noi il breton breton e in linea generale un cane abbastanza facile da condurre un tipo di cane continentale che significa che significa che esprime una ricerca di caccia pratica ecco con i cani da ferma inglese la grossissima differenza e che sono andate di moda le la grande cerca quindi un distacco esagerato che è la cosa che condiziona di più l'effetto supervisione quindi permette al cane di mantenere presente la canalizzazione sul tartufo perché si sente supervisionato dal leader noi cani e cavalli apprendiamo la stessa maniera ma abbiamo ripetuto più volte se io sono presente come un bambino che ha la presenza di genitore condizionato se sta da solo insieme agli amichetti esprimerà il suo carattere perché non si sente supervisionando stessa cosa accade al cane quindi dobbiamo trovare in questo contesto pensavo deve trovare un cane che si è equilibrato di carattere quindi che che quando va a visionare la cucciolata che sia giusta che non abbia paura che si avvicini e che abbia la protezione al gioco che non distacchi dagli altri cuccioli che abbia un atteggiamento di tipo continentale di solito lo vediamo dall'atteggiamento di coda dal modo di come ci guarda che molto regata al leader da non confondere con l'insicurezza però il carattere come andremo a parlare anche del carattere è mezzo caro un buon carattere ci permette di essere bravi sia alla lavagna che all'interrogazione un carattere sensibile purtroppo sei bravissimo a fare i compiti in classe ma alla lavagna alla lavagna non ti esprimerai quindi dobbiamo trovare un cane di un buon carattere tendenzialmente continentale il fatto che discende da linee che vanno a caccia va bene può andare bene l'importante è che non facciano una grande cerca cioè che quando si esprimano non facciano quelle aperture da setter ma si comportano da breton tra l'altro la prima razza il mio primo cane era un breton l'intelligenza superlativa è un cane e viene timbrato con il fatto di essere permaloso in realtà è un cane ragionatore come tutti i cani continentali spesso preso da persone che venivano da cani inglesi quindi non essendo abituati ai tempi di applicazione ai tempi di risposta di il cane ragionatore lo indire lo categorizzavano come cane permaloso non è così è un cane ragionatore anche un curzar un lagotto lo è addirittura di più con i tempi di attenzione in linea generale parliamo e poi ci sono sempre il predatore noi sul tartufo lo utilizziamo e più alto il predatorio e più il nostro cucciolo sarà stimolato andare sul tartufo perché la pulsione che andremo utilizzare è quella del gioco predazione l'importante è che durante l'età della socializzazione che il cane che fa la differenza tra un predatore un cane da guardiani all'età della socializzazione quindi parliamo tre cinque mesi il cane sia al suo effatto alla caccia e canalizzato il suo istituto predatore sul tartufo quindi se riusciamo a fare questa cosa con non trascurando assolutamente l'educazione di base molto probabilmente riusciremo a fare un buon cane da tartufi grazie